Ciao a tutti ragazzi sono Luke e faccio questo video e sono serio ragazzi perché come avete visto già dal titolo lo avete capito ragazzi si sono diventato proprio ieri sera partner di TGN per cui sono veramente contento e vi ringrazio tutti ragazzi tutti dal primo all'ultimo per cui volevo dirvi alcune cose ragazzi da oggi in poi lo so che è difficile per voi però dovete farlo datemi di lei non scrivetemi tanto ragazzi scrivetemi poco scrivetemi il giusto come ho già detto datemi di lei perché mi sono montato la testa ragazzi da oggi sono partner per cui non sono più Luke di una volta e volevo dirvi a chi mi ha detto queste cose ragazzi andate a cacare cioè veramente ragazzi sono partner sono partner di TGN sono contentissimo e grazie a voi ma io rimango e rimarrò e sarò sempre Luke di sempre dicendo le mie stronzate facendovi ridere finché riesco e facendo sempre le mie serie e i miei video incazzatura sarò sempre Luke di una volta forse si con la partner con il canale un po' cambiato diciamo ragazzi con magari qualche pubblicità in più con un nome in grande dove clicchi vai direttamente al sito ma ragazzi ma sono sempre io sono sempre e solamente io e cosa voglio dire ragazzi sono veramente felice non me lo sarei mai aspettato mai 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 anche perché le mail di conferma mi è arrivata all'improvviso mi è arrivata ieri sera alle 11 cioè pensate che cavolo stava pensando alla partner e per chi era sul forum ieri sera lo ha saputo in diretta per cui erano tutti contenti grazie per essere contenti contenti con me per cui vi ringrazio veramente con il cuore e volevo dire ragazzi ma la cosa che più mi ha mi ha fatto rimanere di stucco di gesso di cemento di muro non lo so che mi ha fatto rimanere stranito veramente ragazzi che mi ha stranito che cazzo sto dicendo vabbè avete capito sapete cos'è ragazzi è che quando ho fatto domanda a TGN mi è arrivata un'email dicendomi che stavano facendo i controlli le solite cose che fanno tutti che la tempistica era da minimo 1 a 5 settimane per avere la risposta la risposta se era sì o no cioè a me mi è arrivata dopo 3 giorni ragazzi veramente molto strano molto molto strano me l'ha detto tanta gente tanta gente che è già diventata partner e mi ha detto che veramente è molto strano che me l'abbiano accettata in neanche 3 giorni per cui non lo so ragazzi cioè io due mesi e mezzo lo ripeterò sempre un po' più di due mesi e mezzo quasi tre mesi che sono su youtube ne ho passate di tutti i colori ragazzi tutti tutti i colori possibili ne ho passati ma sono rimasto in piedi questo grazie a voi grazie alla mia testa di cavolo perché sono destardo ragazzi quando mi metto in testa una cosa io vado avanti guardo mi metto il paraocchi come i cavalli guardo solo dritto e sì è vero faccio i video incazzatura voi direte segue non guardi dritto perché rispondi ai messaggi e ti incazzi con gli altri sì ragazzi perché sono perché io come si dice voglio voglio rispondere a tutti nel bene o nel male devo insultare qualcuno io lo faccio perché come ho detto in un altro video io sono sincero non faccio video finti e non faccio video solo per essere il bravo di youtube no devo fare i video incazzatura dove mi incazzo e sputtano la gente li faccio ragazzi io non ho problemi non ho né problemi né paura di nessuno e né e né mi va di fare video finti io faccio video dove sono sempre me stesso dove rido o dove mi incazzo per cui per cui i video andranno avanti ragazzi e ancora meglio di prima perché perché sono rimasto in piedi ragazzi e sono arrivato alla partner sono arrivato alla partnership con TGN e per questo ragazzi devo ringraziarvi tutti tutti dal primo all'ultimo ma i ringraziamenti più grossi vanno a Mr.Anton93 e Capobastone perché? perché grazie a loro ho conosciuto TGN sono io ragazzi in queste cose sono veramente imbranato non ci sarei mai arrivato a pensare a TGN anche perché come già sapete mi hanno anche tolto l'account di Google AdSense per cui adesso Google AdSense può andarsi a farsi fottere per cui altro che truffa vai dove cavolo vuoi ma non stressare più me e detto questo ragazzi lo ripeto volevo ringraziare veramente con il cuore Mr.Anton93 e De Capobastone tanti mi stanno dicendo che sto facendo il leccaculo e io ti rispondo subito dicendoti che perché dovrei fare il leccaculo in questo momento che sono la partnership se come dici tu arrivato alla partnership non dovrei più ringraziare il Capobastone giusto? perché ho avuto il mio scopo e il Capobastone lo dovrei mandare a quel paese no? perché io il Capobastone lo stimerò e lo ringrazierò sempre come ho sempre detto per cui non vedo quella frase e cambiala per favore e vorrei ringraziare anche ragazzi Lord Creeper che mi ha mandato il contatto su scape abbiamo parlato tutta la mattina per cui vorrei ringraziarlo ragazzi perché volevo dirvi una cosa ragazzi allora io prima di aprire un canale seguivo il Capobastone come seguivo tanta altra gente e come seguivo anche Lord Creeper lo ammetto e cosa volevo dire? si che quando li seguivo poi dopo un po' ho aperto il mio canale per me erano irraggiungibili erano i famosi di Youtube erano... cioè... io dicevo sempre pensiamo se va a pensare me se va a rispondere a me ragazzi ora che mi hanno risposto veramente ora che siamo diventati tra virgolette amici su Youtube perché io il Capobastone lo lo deputo come un amico non come un leccaculo come un amico, un consigliere come una persona con più esperienza su Youtube che aiuta altra gente perché come ha aiutato me ha aiutato tanta altra gente e... alla fine ragazzi ci sono arrivato da solo ho pensato cosa dovreste pensare anche voi ragazzi siamo tutti esseri umani siamo tutti uguali siamo tutti ragazzi perché sì siamo famosi su Youtube quello è vero ma non siamo ricchi nel senso... cioè siamo adesso parlo in generale perché sono arrivato da partner parliamo degli altri non parliamo di me sono famosi su Youtube sono conosciuti in tutto il mondo se ne parla in metropolitana se ne parla in mezzo della strada di questi nomi no? però ragazzi non sono ricchi non sono cantanti non sono attori che sono irraggiungibili sono persone chissà che cosa no ragazzi sono persone come noi che fanno video su Youtube magari con un po' più di fama ma sono sempre contattabili cioè poi sono persone non sono le classiche persone che fanno canali e poi non cagano più nessuno no? perché rispondono i vostri messaggi vanno a commentare i vostri video e sono sempre pronti a dare una mano dopo quello che mi è capitato a me ragazzi in poco tempo tutte le cose che mi sono capitate ragazzi mi hanno contattato cioè mi hanno un casino di gente importante su Youtube come il Capobastone appunto come Mr.Anton93 come Lord Creeper come su Cazza ragazzi mi ha contattato su Cazza per cui ringrazio anche lui per i consigli che mi ha dato per come per come mi stanno vicini ragazzi mi ha contattato Master Sasori tutti amici del Capobastone per cui sono veramente contento è fiero di me stesso lo ammetto ragazzi sono sincero non voglio vantarmene perché non mi sarei mai aspettato di arrivare a questo punto ve lo giuro e tutto questo in neanche due neanche tre mesi per cui ragazzi si sono partner sono contentissimo Luke va ancora avanti e so che voi sarete contenti e vi ringrazio ancora una volta tutti da Luke è tutto ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti